Siamo su una strada provinciale, la più importante del comune di Bercetto perché è il raccordo che unisce il casello al paese. Sono pochi chilometri, però in condizioni disastrose. Non voglio assumermene il merito, con me ci doveva essere l'assessore Serpagli che però è impegnatissimo. Io devo far piacere di far vedere che la provincia, anche in questi territori, riesce, seppur a fatica, a fare qualche cosa. Proprio perché so che è faticoso farli, è un merito maggiore ai cerci riusciti. Quindi ringrazio tutti i tecnici come Alifraco, come Serpagli, come Mesti, tutte le persone che si sono interessate per ottenere questi finanziamenti e riuscire a fare almeno le cose più importanti che avrebbero potuto far chiudere la strada. Quindi un ringraziamento a quello che ha riuscito a fare l'amministrazione provinciale che ogni giorno di più rimpiango la sua chiusura. Grazie. 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 Grazie.